Inaspettata, devo dire la verità, ma anche parlando con i colleghi, inaspettata, non mi vengono altri commenti perché mi sono riletto in questi giorni ovviamente in cui abbiamo atteso questa Camera di Consiglio gli atti, gli atti del dibattimento e faccio una grandissima fatica a capire come faranno nella sentenza, ma ce lo spiegheranno, ci hanno 90 giorni in tempo per farlo, come si possa dire che è stato ricca ad uccidere queste persone.